Dovremmo esserci Perfetto Siamo in live Doom Eternal L'ultima volta mi ero fermato a Necravall a fine mese Parte 2 Passata tipo Due settimane dall'ultima stream di Doom Maronna E' partita diretta, non me lo segno Ah si, è partita Wow, non me lo segna comunque Vedo schermo nero Ora si vede niente? No, più che altro Cioè ci sarebbe Ecco infatti Ci sarebbe il problema che Non mi segna la diretta Cioè, ah no, ora si, ok Mi segna zero spettatori E la diretta Che non è ancora partita Vabbè Come si cambiava mood così? Ah, aspetta Come ora di uno? Oh no Ora? Ora sembra funzionare Ah, vabbè Ok Oh Ah Come era così? Aspetta Salve Oh Dai, devo bersagliarlo Ah Cosa mi ha spinto giù? Ah no Mi sa che ho mancappato il gancho per sbaglio Perfetto Allora Se non ricordo male Lì c'è un segreto Come ci arrivo? Va bene Oh Meno male Ah Le fiamme No Sono caduto Oh Meno male E che mi fai? Ah ok Ahia Le fiamme Le fiamme Devo pensare sia alle fiamme Che a quelli Mannaggia Bello Lo stagliate in No Scusa Quello non mi resetta Tipo Lo sprint Perché non ha sprintato? No Meno male Ce l'ha fatta Buono Ah Ne ha già vuoi Dov'è il cotto che crea? Ah Va bene Tu sei già morto così Ok Con calma Con calma Perfetto Punto arma Ah Ok Va bene Beh Non è che mi sia rimasto Molto da prendere Eh Li ho trovati Praticamente tutti Me ne manca uno Ok La tua gente È fatta Per soffrire Anime Lavorate Per il mondo Della camma Te lo garantisco Questo Si sarebbe potuto Evitare Con un'altra Amministrazione Ok Vabbè Noi per sicurezza Risolviamo il problema Ok Ok Lui è esploso Albe E' qua Aspetta Uh Cos'è questo? Uh Sono ultra fast Sono lo scout Però è troppo fast Mannaggia Salve Vabbè Penso siamo Ma Cosa? Ho visto un nemico Lo giuro Ah eccolo Infatti Calve Descato Perfetto Uh Aspetta Ma Uh Bè Porso un po' Pobordè beeehheeehheeeellllllllll non Ah beh Oh ok Close Va bene Ti accontentiamo C'è un altro nemico Eh vabbè Un altro punto arma Yeah Sicuro non ci sia niente? Qualcosa c'è vedi? Uh Niente sono col vita Andiamo Pagina del Grimorio Non c'è niente qua? Uh Siamo per questo Una volta estratta l'anima Il ricettacolo del corpo umano Si trasforma col tempo Nei demoni Che sei abituato a combattere Quello che rimane dell'anima estratta Alimenta il loro mondo L'essenza dell'inferno Smash Oh oh No 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 Non ho capito niente Uh Ok Demone potenziato Sconfitto Quante mazzate Mi ha tirato Ops Con calma eh Ottimo Problem solvente E' meglio pura munizione Tempia Ma Ah C'è lì sopra E dillo no? Ok Ok Oh no Non ancora Tu Ah mi è stato Va Va Ha Oh Ah 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 Cazzo separata Aspetta e mi devo Un attimo Prendere delle munizioni Ah ma c'ho una vivecchia Albe Dai Ah Stavo meno male Io che credevo c'era smash Eh no Mi spiace oggi Oggi du Mash si potrebbe fare Lunedì Ok Dai Au Scusa perché il cane Vabbè Non l'hai cato Oh grazie Mi serviva Dov'è 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 Ah Cazzo Hai Au Che mira di Via di qui Immediatamente Hai evocato il cane Dai 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 Oh Ce l'ho fatta senza sprecare la vita Che anzi ogni volta è il mare Brother E come dovrei arrivare Ah c'è il cotto per aggrapparsi Dal beh Oh quanta vita Thank you Oh no Ma ricordo Questa scena Questa parte di livello Qui sotto non c'è niente No Grazie Au 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 Ok Sono andato dalla parte sbagliata L'ho metto Oh Bene Mi sto Abbrusolendo un pochino Uh Vita extra Come ci arrivo Ah così Mio È la vita È extremiserva Nesta difficoltà Te permettete I demoni utilizzano soltanto una parte delle risorse che arrivano dalle anime umane Sono stati i Mike e i sacerdoti delle sentinelle a scoprire e sbloccare il vero potere dell'essenza Hanno fuso l'energia delle sentinelle dell'inferno raffinandole e orecinando l'argent Con esso hanno fatto cose straordinarie Hanno salvato i mondi dall'estinzione Guarito i malati E hanno donato un infinito potere a coloro che ne erano degni Fantastico Ah non ce l'ho ancora questo Wow Ah c'è un punto maestria gratis Eh no i missili infiniti ce li ho già Un punto energetico ce l'ho già pure Davvero tutto wow Ce lo teniamo però va Per sicurezza Ah ok Salve La struttura venne costruita in segreto Le sentinelle della notte non sapevano che esistesse Fatte dagli schiavi delle sentinelle Poiché un Mike non può mettere piede all'inferno Né un demone sopra Urtac Argent de Nur È stato di grandissimo aiuto per i Mike Ho un'altra vita Eh vabbè Oh oh ok Chi che mi spara? Salve Oh 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 Fessima idea Fessima idea E mi spara? Salve Prendo le tue punizioni se permetti E a te Oh 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 Ho sentito un Ok è morto Andiamo a Ah ecco C'era Oh Arrivederci Grazie Credo da qualche parte ci sia quello che evoca Demoni Ma così è intuito Oh Me l'ho dimenticato E posso aggrapparmi a questi Eh adesso Ah ok Devo andare lì Oh mio dio Vai Perfetto Beh Di nuovo gli occhi No aspetta È quello Oh Oh Ah munizione Estaurita Mannaggia Senti Non è che Come demone potenziato Aspetta un attimo Dove? Ah Là Talve Oh È calmo Ah Mi ha fatto il culo Bene Bam Però io avevo tipo tre vite extra quindi Scusa non ci dovrebbero essere altri occhi da Ah ecco infatti Mio dio Due colpi sono bastati Oh Eh ma sono full vita Mi servono pezzi armatura Bam La torre di trasmissione Se riesci a distruggerla L'energia non raffinata Dovrebbe proiettarti nel nuovo mondo Va bene Oh e tu bro La torre è tenuta in alto Da due titani schiavizzati Spezza le catene E buttale nel pozzo sottostante Vai Eeeh 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 Vai Insomma Ah Ha fatto munizione sufficiente per questo qua Hold up Ho un'idea Ah Tocca d'uso Perfetto Oh buono Un po' di strage L'ho fatta Eeeh Un po' mica tanto però Guarda qua 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 Ah lo sto bombardando Oh E' che cavolo E' che cavolo Ah Nooo Perché L'ho preso il Vabbè Amen Ah Ti va di scherzare Non è una buona situazione Se posso dire Ah Ma perché No Dove di darmi le munizioni Non morire Eh munizioni saurite Oh è morto Oh e dammi il tempo Con calma Mamma mia Che fretta Che mi mette Aspetta le catene L'ho capito Corri 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 Sleye Corri uno No munizie Vamos E' armatura Vamos Per due Mio dio Che fretta Che c'hai bro Andiamo Aiuto Oh lo è finita È stato un bel Stato un bel bordello Ora siamo Se non sbaglio Il boss Che è più forte Del boss finale Che a questa difficoltà Sarà un inferno Ma vabbè Ormai Siamo abituati A bestemmiare Ci abbiamo messo Già 23 minuti Solo per La seconda parte Di questa missione Maron E non sono mai morto Mi sei solo Attivata la vita Extra Beh ci siamo Che musica Rassenerante Sì se mi dici Dove devo andare Subito Guarda Presumo io Devo andare di qua Non ci sono segreti Qui ho vite extra Sai avrei Urgente bisogno Di vite extra Vabbè questo mi va bene Comunque Non faccio storia Cioè ho solo due vite extra Non mi basteranno mai Uii Ok No Pensavo ci arrivasse Ma va bene A quanto pare No Devo tipo Sfruttare tutto Ok ci sono arrivato Aiuto Ci arrivo Sì ci arrivo Niente checkpoint Niente checkpoint C'è già la minimappa Grazie Molto Comodo Molto Allora Vediamo un poco Là c'è o un demone potenziato O il totem Lì sopra c'è un segreto Non sembra Non sembra Salve Salve Dimenticavo Grazie Perfetto Va va Benvenuto Serafino Eh sì Sono proprio Serafino Non vedete che Pado 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 Noi non saremo in grado Di controllarlo No Quel no Comunque è molto Molto preoccupato Eh Serafino Ahia Il drone Mike Questo ti serve Il fucile da cecchino Però in compenso troppano munizioni Se Io non so Mirare col cecchino Non l'ho preso mai nella vita Però va bene Ho un trucco però Allora Non togliamo momentaneamente Cosa Volevo togliere questa Ma vabbè Ecco C'è Tiene premuto mouse 2 a mezz'aria Per rallentare il tempo momentaneamente Oh oh Eh no Permetti Oh 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 Tu da dove sbuchi Ok Mamma mia Quanto ho qui Rallentare il tempo a mezz'aria Peccato che non droppa un'armatura Ma vabbè Ce ne faremo una ragione Solo munizioni Se Li uccido con un headshot Oh Ma Quanto ci metto a sparare Vabbè Se ne occuperemo dopo Oh Ho preso Meno male È tipo da Da sniper Questa Questa area Vai via Vai via Oh Calmi Calmi Oh 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 È tu Te ne vai Prezzo Il tuo tentativo Ma Eh Ah Dove è finito Ah Va L'icona del peccato Non è più controllata Dalla camma Ecl Più tempo rimane Sulla terra Può diventare potente C'è un portale Che possiamo usare Dobbiamo riassirarlo Il mondo Sulla terra 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 Vabbè Oh oh Beh Non è stato male Come inizio Quelli Da headshotare Li abbiamo headshotati Quasi Pugno Oh no Oh oh Dai vabbè Non l'avete visto nienta? Come ci dovrei arrivare lì? Così? Così? Va bene Oh buono 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 Andiamo Dove 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 Ah Ci sono effettivamente Le lucette verdi È un po' Andiamo Ma salve Ah Beh Ma non l'ho preso Giù Non li prendo in testa Ah Posso anche sparargli normalmente Vabbè Ma perché Pure Stai fermo Mangia di questo Oh Oh Devo andare lì E lì cosa c'è? Soprattutto come ci arrivo? C'è il trucco E Aia E dai Ci voglio salire Qui so Manneggi Sono strabico Ok Decreto scoperto Aha Scusate Ma le munizioni Bam Vediamo se riusciamo a farla Come munizioni Saurite o no? Il mio grande piano Bam Magna Da munizioni Saurite Uh Evento segreto fallito Vabbè Ci perdo troppo tempo Facciamo un'altra volta A parte che però c'è Qualcosa che non va Cioè io dovrei picchiare quelli Ma come Come dovrei arrivarci? Ah Così Ma ha funzionato? Sì ha funzionato Oh no Ui Eh Bam Siamo arrivati? Non siamo arrivati Armatura? Niente? Grazie eh Voglio bene anch'io Tirchi di un gioco Totem vicino E' intanto tu fuori Oh Oh mio dio E' tutta questa mappa O sono tre Totem Demone potenziato Eh E lui è il demone potenziato No Demone potenziato E Totem Ok Eccolo Abbatti 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 Demone potenziato Demone potenziato Il nerf comunque Questi si sente Agli arachno Vabbè Quelli Dovevo effettivamente Shottarlo Ma vabbè Salve Qua è un macello Qua è un macello Sono tutti troppo forti Tutti assieme Ok Oh no Ok Non è proprio il momento Per i danni 20 Oh ok E' normale che ho fatto il cambio di armi Punto arma Eh Cosa Quale cazzo Dove ho finito il Ok Ah sei lì Ah beh Dove Dove vado Dove vado Mi sono aperto Ah qua Ok Dai dai Allora Questo lo preme a tempo E basta Va bene Vai slayer Uh In tempo Ah Oh Bene Oh no Sono in un angolo Molto Mio Mia 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 Ah no Pure lui è morto Spicendo arma di continuo Contro i I mostri grossi Non è poi un problema Circa Qua vabbè Cioè io pure che ho la Difficoltà quasi al massimo C'è un portale che ci riporterà sulla terra Ma per attivarlo Riconfigura gli anelli del teletrasporto Oh no Dobbiamo sbregarci Più l'icona del peccato sta sulla terra Più diventa potente Io l'ho capito E più l'icona del peccato sta sulla terra Più diventa potente Me l'hai già detto tre volte mi sa ragazzo mio Calmo Che arrivo sulla terra Dai che gli faccio il culo Oh oh Prima però C'è il classico Spara spara boom boom ma è Oh oh Eh vabbè No 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 Fuck Morto troppo press Albe Ah uh uh Lasciatemi in pace Albe Ah pugno infernale Ecco ti Va bene Il cane Il cane Il cane Pensa al cane Cosa mi hai impressionato esattamente Aiuto Vabbè Cosa Va bene Non ho capito Non ho capito Ma mi sono fatto il marauder In pochi secondi L'ho riempito di manzate Ciao Vega È stato un piacere Sistema acquisito Faccio una rotta per la dimensione della terra Posso Dottor Vabbè Vabbè Del teletrasporto Prima che sia tardi Il portale deve essere riaperto L'unicona del peccato sta sulla terra E più essa diventerà forza Ragazzo mio però Sono chiodo fisso L'ho capito Eh che cazzo Sì comunque Vega Ha rivelato di essere Il padre Di tutti Michael Cioè ci sta aiutando A sconfiggere la sua stessa Razza Che ha creato lui Ma va bene Evidentemente gli stanno Sul cazzo I suoi figli Eh fuori di uno Fuori di due Più l'icona del peccato Rimane sulla terra Più diventerà forte È stato già detto vero? Allora tecnicamente Io dovrei andare qua no? Uii Oh oh Mi sono lanciato una bomba Sì vedi Via No 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 Modulo adatto Ora sì Quello se n'è andato giusto giusto Appena ho messo il modulo adatto L'ha capito No Quick scoop Era una kill epica Decnicamente Ehm Va bene Oh oh No Ah Pessima 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 Idea Per l'appunto Cosa ho ucciso? Cosa sta succedendo? Ah Non ho capito Penso mi abbiano tirato addosso Tutto Di una botta Tutti i demoni forti Dove sei? Ah Penso eh Penso sia successo esattamente quello Qua non ci posso entrare ancora vero? No Ok Un segreto Mio Vabbè Andiamo tipo di qua Ci arrivo vero? Sì Ci arrivo No Non posso sprintare Che schifo Ah ecco è qua Alla gamma E crescere Che la terra Sia consumata Dai demoni Oppure Il suo mondo Morirà Oh 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 Ti va di scherzare Spero Non ho le munizioni Aspetta Ok Ora ho le munizioni Un demone potenziato in una stanza così piccola Comunque penso sia l'inferno Normale che Tu c'è un'arma Gli fai ingenti danni in poco tempo No Ma davvero? Ma ha fatto la giravolta? Oh Cosa è stato? Ah Albe Ricordatevi gente Switchare arma è più Spagliere e terrore Super duro di borderline Switchare arma sarà sempre un'arma Una mostra più efficace del No come ricarica? Sua mamma ricarica Ecco l'ha fatto fa giro volta Con dentro il gioco Non ha male Oh Albe Oh Ti mancava Oh Ma che ci fai tu qua? Vai via Eppure tu dai Me ne vado 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 Non me ne vado Uff Fatevi un attimo Mi cazzo Mi cazzo E' un attimo Ma ti va a mattare Sto demone Va Uff Bene Sono sceso E' peggio qua sotto E' anche peggio Basta Malessere me E' lui E' lui E' sopravvissuto Però Aia Oh Oh Vieni qua Vieni qua Per favore Grazie Bene Cosa Mamma mia C'ho fatta Santo Dio Abbiamo fatto danno Praticamente Abbiamo praticamente Il suo danno Ha portato L'icona Dolmiente Qui Ma Sua Superbia E' riuscita Di stringere Il paradiso Ok E' stata una cosa Molto figa Oddio mio E' il secondo E' andato Manca il terzo Vai 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 Ma Ok Scusa Mi si è chiusa La porta in faccia Dai Oh no Niente Ok Scusa Cosa c'è di qua Beh Ovviamente Vai Slayer Wee Siamo tornati Punti a capo Vero Eh Anzi Dover Andare Di qua Adesso Oh E' di là Oh Ok Ci sono arrivato Come Totem Totem Vicino No Non è proprio Nel momento Nel luogo Dov'è sto Totem Oh Mi ha refullato Tutto Wow Grazie Gentile Ma dov'è sto Totem Tutto molto Bello Ma dov'è sto Totem Ancora Ancora lo cerco No Ah Eppure Signori Un po' di pietà Sto cercando un totem Oh Oh Deve aver bisogno Di una mano Au Oh Eccolo Dio Dio mio Dai Dai bersaglielo Versaglielo Munizioni in esaurimento Perfetto Ma Bella No praticamente tutti in esaurimento Andiamo a spammare Motosega va Da qualche parte contro qualcuno Davvero tutti esaurito Si praticamente Wow Va bene Senza munizioni ma ce l'ho fatta Wow addirittura un punto armatura ma sei gentilissimo Salute critica Dio mio Dio Dio Ora che gli anelli sono tutti allineati Si è aperto il portale dimensionale Corri alla piattaforma di atterraggio Ed entra nel portale Alla terra non rimane molto tempo Fammi indovinare perché Perché l'icona del peccato più tempo rimane lì E più forte diventa Oh oh Ho paura di sapere dove Andrà a finire tutto ciò Prima di poter riutilizzare il portale Ma forse no Forse mi sbaglio No no mi sbaglio affatto Ma scusi Oh oh Demone è potenziato Attivi Eh fuori Fuori Uh Beh munizioni me ne hanno dato un po' troppe adesso Credo di dover arrivare in qualche modo Lì Non è che sia il massimo a nuotare in queste acque secondo me No invece no Eh dai Risali Allora nemmeno a nuotare No questo non lo posso usare per ora Ah c'è il trucco Poi c'è pure una vita Vita extra Eh dai Grazie Oh e il bottone lì sopra Sì Sto andando a fuoco Sott'acqua Non 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 credo sia regolare Ma va bene Eh dai Bene bene Benio rapido sbloccato Dovremmo essere arrivati al boss Un attimo solo Sì Sì No Scusate l'interruzione Il dubbio della nostra prosperità Perché ottenessero in cambio Redenzione Tu Che sei Un umano Un tempo mortale Per sfidare Le nostre Tradizioni Yes Beh Questo è il boss più forte del boss finale Bene Andiamo Che è Maecor Devo disabilitare temporaneamente il suo scudo E usare il gancio da macellaio Ah vado a fuoco Vado a fuoco Mi hanno buttato di sotto Quasi Perfus 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 Ok Perfus Perfus Oh Ah Mio dio quanto leva Devo tipo Wow li ho davvero schimati tutti Eh Oh oh Dai fermo Ho colpito oh mio dio Oh mio dio Eh Oh Mio dio quanta vita le troppano però Se li becco in destra No I die Oh ok Ok Via 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 Va bene Vieni qua Vieni qua Ok Cosa succede Oh Oh Dai Mi Mio dio Come ho fatto a prenderlo Ah Eh ancora un colpo Ah Va bene Ce l'ho fatta Wow È stato più facile del premesso Bastava Continuare a shottare Quei cosi Mi refullano la vita Bu Tu Hai distrutto Tutto ciò che ero destinato a governare E solo Per proteggere l'oro Meri Servi Del nostro Credo Tu Hai distrutto Il sacro sigillo Di Urtac Le tue Tascressioni Comprometteranno Tutta L'intera Creazione Bello Infatti È il primo boss Mi sa che ammazziamo A livello di un dio Ammazziamo Pugni Nello stomaco Dobbiamo andare Subito Beh queste sono cose Che ci riguarderanno Nel dlc Per adesso abbiamo Un'icona del peccato Che più tempo rimane Sulla terra Più rimane forte Da abbattere Quindi sì Siamo a livello finale Della storia principale Bene Cam Michael Sconfitta Pugno di sangue potenziato Adesso Due Pugni di sangue Sfida è completata Va bene Peccato finale Peccato finale Il gioco è anche questo Il gioco è anche questo Siamo sulla terra Signore e signori Bene Ecco l'icona del peccato Dobbiamo raggiungerla Siamo tornando Un'icona del peccato Ogni tanto Ogni tanto Eh sai che ti dico A te Ti taglio la testa A te ti mangi La bomba Eh oh A quanto pare Casco di sotto Via l'icona Via l'icona Buono Buono Va Tanto mi piace È quella del Primo livello Praticamente Questa è mia Questa è mia Questa è mia Oh Dove sono finito Albe Ah Ho missato Va bene Ah mi sono incattrato Non mi ha cambiato Arma Ancora più Casinita Di quella Che mi ricordavo Grazie Ah Mio dio Mi ero tirato la bomba sui piedi Ma vabbè Dove vai? Ma vieni qua Stai arrivando l'inferno Oh 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 E' arrivato l'inferno Ah Dio Ok Eh? Ah è morto Va bene Mamma mia Oh oh E' lui che ci fa lì Ci hanno messo tutto in questa parte Tutto Via 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 Qua Ok ok Ben detto Eh 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 E' lui qua Li abbiamo Spaccati Un poco Però ci hanno fatto il culo Ma noi ci siamo venditi Spaccati Ma come Ehi eh eh Un minima Ma come Demone potenziato Di già Ma manneggia C'è che Ma c'è Ma c'è Un attimo Ehi là Salve Una potenziato Stonfitto Ma dove dovrei andare esattamente Ah Ok Scusi Non l'avevo mica vista Se non riesci a fermarlo La terra Non ha speranza Di sopravvivere Eh grazie Molto ottimista Il ragazzo Ce la faremo Non ti preoccupare Eh Fang Potrei aver Bisogno Ok Oh no Però me la sto giocando bene Col cambiare armi Potrei fare di meglio Però Per questo tipo di difficoltà Penso basti E avanti Ma va cacca Nell'ultimo livello Ci sono molti Meno Parkour E molti Più demoni Da ammazzare Ma va bene Così Dai Non è una vita Verona Eh Ecco appunto Fuori uno Va bene Le munizioni come siamo messi Insomma Devo andare lì Vero lì sotto Dai che ce la fai Piccolo slayer Ancora Oh 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 Potrei essere In un mare Di guai Eh non ho nemmeno le munizioni Del DSG Va bene Sì sono decisamente In un mare Di guai Ma Totem vicino No Non ha Aspetta Sì 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 Vabbè Letteralmente vicino Non è che permette Scusa Otto Eh Pappapp Oh delightful Ah Bom Mambino Gesù Ah grazie a Dio Oh oh Ah Ah Come ti permette Oh Mangia Che buono Scala scala Ok Dovrebbe mancare poco In realtà Dovrebbe Dove dovrei andare Dove dovrei andare Dove dovrei Ma cosa cazzo Ok Ah Albert Albert Oh Lo sapevo Scusa un attimo Ma No eh Troppo bello Dove Ah 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 E'leva di Ah 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 Ok mi serviva mi ha scrivato il fratto? bam oh oh mazzo 20 punti arma ah più velocità vabbè mettiamo bomba adesiva che ti do oddio mio che ansia oddio sono 1 armature armature che ne ho 7 che più danni congelamento ah ok punto perfetto oh 5 bomba adesiva a posto fan pugno eccolo il nostro bersaglio andiamo ad andare là uh beh salve eh che dici si ammazzano fra di loro questi ah Mio dio Giocassi a doom eternal così sempre sarebbe fantastico Me li sto massacrando Ma potrei fare magari a difficoltà massima Se giocassi così in maniera costante Dove è finito? Ah Ah scusi ho sbagliato bersaglio No cazzo le munizioni Grazie Come totem vicino? Ma tu stai fuori? Come sono due? Oh no Oh no Col totem pure Hold up Però non so totem Va per sicurezza Ah eccolo Ok Non uh Ah no mio dio Sto capendo meno del solito Però va bene Via 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 Eh no Ecco dov'eri Ma Via di qui immediatamente Dammi punizione per favore Eh un po' meno andate Ok Ho finito tutto Non proprio tutto Ah Va bene Ora si che ho finito tutto Bene Oh grazie Albert Oh 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 bo Oh, aspetta Tu sei la mia salvezza Albe Pugno Pugno Ah Ancora pugno Sento Qualcosa nelle vicinanze Di cui dovrei avere paura No, eh Il cane ora no Ah, cazzo Ne ho evocati due Ok Oh no Ah Ah Nivello doom 12 Direi Dopo sto livello Livello 99 Quanto meno Mio dio Non ricordo che ci fossero così tanti demoni Nell'ultimo livello Prima di arrivare al Forse di qua Forse di qua Va bene Va bene Ottimo Siamo quasi arrivati Signori Boss finale Perfetto Che altro c'è di pericoloso Perfetto Andiamo Oh Oh vabbè bam fatto fuori subito no beh avrò anche imparato a switchare con le armi però non non a fare parkour quello rimarrà sempre il stallone di Achille di tutti oh oh siamo già arrivati è giunto il momento le due titani si incontrano così è scritto bene boss finale l'icona del peccato ha un'armatura che dobbiamo abbattere e poi possiamo iniziare a sbrindellargli tutta la pelle oh fuck si infatti ho usato il bfg per sbaglio ma vabbè no oh no è stato velocissimo bellissimo oh 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 Ah è così Va bene Sì Oh Hold up Ho presa? Sì Ok Quello è ricaricato tutto Oh Buono Buono Che gli è rimasto da Spacca Va bene Non ho praticamente munizione di un cazzo Colpo di motosega No eh Oh Dove sono finito? Beh quello sta spaccando un po' di roba Uh Grazie Oh finalmente ho bisogno di un Ok siamo a 4 su 8 Ah Ma Ah 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 Ah, mi stasparando Oh Ne ha fatto volare via tantissimo Ma va bene Ah ah sta incendiando un po' di roba Meglio andarsene Ah questo ha fatto male Non ho proprio munizioni del BFG va bene Ok Presumo si erano rimasti solo Alle braccia tipo Ok si anche quello alle braccia è andato Au Maledetto Non la pagherai Però prima mi vado a prendere Ne ha munizie Ah Che pezzo di armatura gli è rimasto Così per capire Ah se ne è andato Ok glielo ho spaccato i due Ora che la sua corazza è distrutta Il corpo è esposto Prendi il portale E finisci questa lotta Vamos Ne è ora di finirla una volta per tutte Ripentia Ma questa volta con le parti del corpo Sforcia e lacera Sforcia e lacera Sforcia e lacera Sforcia e lacera Eh fuori la testa Ah puoi saltare gentilmente il grande slayer Ho paura che avrò bisogno di più munizioni Eh non è così che intendevo prendere le munizioni però Ah Vedo Troppo a me mi piace Che sta succedendo? Aiuto Ah eccoti Au Ok ok Grazie Avevo proprio bisogno di questo Dove sei? Dove sei? Fatti sotto Qua e là c'era tutto Tutto Salve Come si è riscaldata No Oh oh Dove vai? Torna qua Ah Cosa succede? Oh bene Il braccio è andato Eh lo stiamo Spaccando un po' Però Dico senza munizioni Non è Non è il massimo Ripentia Ma perché Continua a spostarsi? Oh Mi ha tirato un raggio Non credo il Lancia per a me Mi faccia qualco Oh Ah Vieni qua Vabbè Oh Oddio mio C'è Quello che evoca Demoni Vabbè Tu intanto Cosa? Ancora quattro Vero? Cosa cazzo ha fatto? Cinque 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 Eh consiglio Boss Va bene Grazie Molto Umano Oh oh Come vita Extra Dai Vabbè 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 Aia Il muro Dai Ne mancano Poche Due Aia Aia Un attimo Un attimo Cascato Di sotto Ma va bene Giusto così Dove sei? Dio mio Dio mio Espara 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 Che Au Ma dove vai? Slayer Dai Se permetti Qual è l'ultima parte? Au 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 Beh Da un po' Uno sprego Ma Oh ce l'ho fatta Non trovo esattamente Cosa la colpito Ma ce l'ho fatta Vai Slayer A posto È la boss fight finale Fatta Ac Professor PAMP 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 è appena qua ci siamo abbiamo fermato per momentaneamente l'invasione dei demoni sconfiggendo l'icona del peccato peccato che ci mancano due parti di dlc che dobbiamo andare a fare vabbè sotto i titoli coda li ho già visti grazie buono beh come potete notare nel dlc non avremo più la spada però abbiamo un attimo usata per spracassare di botte il cervello dell'icona del peccato il 60 per cento dell'umanità è stata rasa al suolo però abbiamo salvato qualcuno di essi dovrebbero durare momentanea cioè tecnicamente poco tipo 5 ore di gameplay passeranno cinque live tipo partita completata congratulazione hai finito il turn eternal ma la c'è un segreto io come ci dovrei arrivare due batterie quasi quasi abbiamo fatto una bella strage oggi oggi ho giocato bene dai no dammi c'è che c'è da ho il raggio al microonde o la detonazione remota detonazione remota e Beh che dire Abbiamo fatto il nostro bordello qua Siamo Settati di tutto punto E Abbiamo fatto una bella strage Questa è la rete della resistenza In quella che speriamo sia la nostra ultima trasmissione A tutte le persone della terra A chiunque sia in ascolto L'orda demoniaca è stata sconfitta La bestia identificata dagli essenziali dell'Arc Come icona del peccato È stata distrutta oggi dallo Slayer in persona E in essa La maggior parte della forza demoniaca è stata dispersa Con ridursi della minaccia Ora più che mai è importante che ci raduniamo C'è speranza La razza umana perdurerà Molti dei sopravvissuti attribuiscono allo Slayer Una natura divina in quella che è stata Una battaglia tra il bene e il male Di proporzioni bibliche Mentre l'umanità si prodiga Per capire cosa sia successo Per chi Molti guardano allo Slayer In cerca di risposte Ma la sua posizione Rimane sconosciuta Beh Grazie a cazzo che è sconosciuta Guarda dove siamo Beh Signori Prossima volta DLC Di peso Siamo stati in live Due ore Mannaggia Non avevamo sbloccato niente Vero? Invece Con questo Ah vabbè C'è uno caduto Barbaro Oppure qua? Ah mettiamo questo Una Skin per il BFG Lastro Ok La pompa in spalla Ok Ok È stessa roba Per il revenant Velocità infernale Uh Mi piace Per il profilo Siamo questa Siamo questa Terminatore di Di titanio Scusa C'è altro Ah Mitico Ottimo 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 Questa ancora Non la posso sbloccare Ma vabbè The Uncest God E The Uncest God 2 Ma potete vedere Questa sarà Blind Run DLC Non li ho ancora fatti Amen Detto questo Signori Grazie E arrivederci Vediamo sabato prossimo Spero